posso rubarvi due minuti in video sul vostro lavoro faccio il freelance da molti anni che testata siete almeno via non chi siete perché so la privacy mai con uno sconosciuto eh sì sì eh vabbè non è che uno perché in un posto può intervistare chi vuole quello più alto l'avevamo raccontato mi racconta la vostra agenzia per una tv di modena mi hanno chiuso due canali quindi ho perso 25.000 video in tutto interviste sono irrifattibili ma e adesso gratis una tv di modena mi ospita però vabbè so chi ha parlato peppe chi ha no solo solo allenatore peppe di stefano sky da due dei nostri inviati da tre dei nostri inviati Gianluca Zullini con Paolo Grossi vediamo chi c'è così si può spostare un attimo chi è che non vi conoscono diciamo c'è così si può spostare fuori